C'è la sabbia. Amici sportivi buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Il Pescara pareggia in casa anche con il Rimini, è un momento certamente molto difficile. Ne parleremo questa sera con i graditissimi ospiti. Saluto Walter Nerone e Giorgio Repetto. Buonasera a entrambi. Buonasera a tutti. Poi abbiamo un altro ospite graditissimo, un amico di A Tutto Campo, è Vincenzo Minguzzi, direttore sportivo. Buonasera Vincenzo. Buonasera. Andiamo in collegamento, questa volta da Pescara, dove c'è un tifoso, un super tifoso, presidente del club Quelli del Deppino, William Gelsumino. Buonasera William. Buonasera, grazie Pierluigi, saluto gli ospiti, grazie per l'invito. Grazie a te. Fra pochissimo avremo anche il collegamento con Alessia Spolverini, ma intanto Manuel Carinci è pronto per un'altra vignetta. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Pierluigi. Sì, questa sera andrò a realizzare qualcosa riguardante questa crisi, tra virgolette, del Pescara e più tardi vediamo un po' cosa elaborerò. Sulla sosta, questa vignetta sulla sosta. Beh, anche su questo, specialmente sulla crisi del Pescara. Possiamo vedere di che sosta si parla. Allora, sigla. La sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone sta viaggiando sul prato e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai. Son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai. Così felice e smalordito, non sta mai. A tutto campo arriverà. È un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà. Chissà che faccia che farai. Quando la vedi alla televisione, rimarrai senza parole. Clicca se seguici. Secondo tempo ci abbiamo provato. Abbiamo giocato, penso solo noi. Purtroppo non siamo riusciti a creare occasioni pulite per poterlo fare. Anche oggi abbiamo giocato di più e meglio dell'avversario. Poi bisogna fare gol per vincere. Noi non l'abbiamo fatto e quindi ci accontentiamo di pareggio. La gente vuole che Pescara vince. Se non lo volevano nemmeno venivano. Quindi è giusto. Anche a noi dispiace che non abbiamo fatto la partita vincente. Però io spero che capiamo dove sbagliamo e miglioriamo. Io non sono contento dei risultati. Perché penso che sul campo la squadra potrà fare 8-9 punti in più e essere in testa. Poiché che non ci siamo sono errori nostri. Bene, allora iniziamo da Walter Nerone. Queste le parole di Zeman. Che dire? Zeman continua a sostenere, ma è anche il suo ruolo, che la squadra sta giocando bene. Non è venuto il risultato, ma comunque la prestazione è stata buona. Almeno questo ha detto Zeman. Eh, ma l'aveva detto pure a Carrara. Che la squadra non gli era dispiaciuta. Infatti l'ha cambiata quasi tutto. Io adesso sto cercando ancora di capire perché hanno chiesto il rinvio della partita con il Ponte d'Era. Non credo che l'abbiano fatto perché si divertiranno poi per tre settimane a giocare ogni tre giorni. Avranno una finalità. M'aspetto alla ripresa del campionato di vedere qualcosa di nuovo, di originale rispetto alle ultime settimane che francamente sono state dal mio punto di vista scoraggiante. Poi qualche episodio, lo dicevamo prima, qualche episodio che gli ha girato male, cioè il palo di Merola poteva cambiare la storia della partita e forse avrebbe cambiato anche tante altre cose. Però il calcio è questo. Il calcio è fatto anche di spinte, di falle di mano e di rimbalzi falsi. E non ti puoi aggrappare a un episodio. Poi, ironia del caso, Merola è l'unico intoccabile di questa formazione. Abbiamo imparato insieme al portiere perché gli altri non sono sicuri. Se sono attaccanti non gli basta fare gol. Se sono difensori non gli basta neanche evitarne. Là in mezzo non lo so. Io sono curioso di vedere il Pescara dopo. Purtroppo per il Pescara dopo ci sarà il Cesena e sarà uno di quegli appuntamenti importanti. Ma anche per capire il senso di queste due settimane. Cosa ha in mente? Cosa vuole cambiare? Cosa vuole aggiustare? Cosa vuole definire? Perché la logica avrebbe detto di non interrompere la stagione, nonostante le due assenze. Vedremo, vedremo. In questo momento mi iscrivo tra gli agnostici. Allora Giorgio, Zeman continua chiaramente a difendere la squadra e fa bene, a difendere in un certo senso se stesso, ma probabilmente qualcosa potrebbe venire meno nella consapevolezza del direttore sportivo e forse di Sebastiani e della sua validità in questo momento nel Pescara. C'è questo rischio? Quando le cose vanno male il rischio c'è sempre, che ti chiami Zeman o un altro cognome non cambia molto, però al di là di quello che diceva Valdi, che effettivamente si sa che ci sono gli episodi negativi in un periodo, credo che il Pescara in questo periodo di risultati negativi li ha fatti e che ci sono state anche situazioni negative dal punto di vista della fortuna, perché non è che gli ha girato benissimo. Non sono d'accordo su Zeman quando dice che non ho capito bene se lui pensa che la squadra meritasse di avere 8-9 punti in più e io in quello non sono convinto perché credo che anche un paio di vittorie le abbia tirate fuori per i capelli, mi viene in mente quella di Ferrara, quella con il Gubbio e un'altra con il Gubbio, insomma un'altra parte. Sono due partite che potevi non vincere, come potevi e meritavi di vincere magari a Perugia alla seconda, alla prima seconda del campionato. Comunque a prescindere da quello non riesco a capire la necessità di questo rinvio della partita perché andare a Pontedera senza, alla fine senza Tugnev perché a Cornero l'hanno rimandato indietro della nazionale perché è infortunato, quindi alla fine senza Tugnev potevi avere la spinta se tu avessi fatto il risultato a Pontedera per affrontare il Cesena più da vicino diciamo, a livello di classifica perché se tu avessi vinto magari a Pontedera e poi giocavi col Cesena ti ritrovavi magari a 6, 7, 8, 9 punti se non so e quindi hai l'impressione che con la vittoria ci sei quasi addosso. Se come diceva Walter succede che il Cesena vince anche domenica prossima in casa, ti ritroveresti Cesena a 12 punti mi sembra, no? Giusto? O giù di lì, sì. Pescara 21. Adesso ne ha 9. 9. Ne ha 9, 3, 12. Potresti trovarti a 12 punti con l'idea di dover recuperare la partita ma che ti sembrano già molto lontani, hai capito? Quindi psicologicamente avrei addirittura da calciatore avrei giocato volentieri il giorno dopo la partita del Rimini, proprio subito. E poi c'è anche un fatto statistico, insomma al Pescara è già successo di rimanere fermo una quindicina di giorni dopo Sestilevante se non mi sbaglio e credo che poi abbiano incominciato la sequenza di partite negative, no? Se non mi sbaglio, quando c'è stato un rinvio mi sembra che poi Pescara abbia perso un po' di ritmo. Per cui che ti devo dire? Sulla domanda che mi hai fatto non credo che ci sia l'intenzione in questo momento di cambiare allenatore anche perché è stato impostato il campionato diciamo è stato impostato con una squadra giovane e quindi rischiando ma sapendo di avere in mano un allenatore che con i giovani ha fatto la fortuna delle società che l'hanno avuto. Per cui sarebbe sconfessare quello che si è provato a fare d'estate. Quindi io credo che oggi come oggi non avrebbe molto senso e sarebbe anche difficile poi capire chi potrebbe venire a allenare una squadra impostata in questo modo perché è stato fatto un mercato puntando proprio su ragazzi che sono primo, secondo anno di campionato 2003, 2004, 2002 cioè non è facilissimo. L'hai potuto fare perché avevi in mano un allenatore che con questi ragazzi, che con i giovani ha sempre fatto grandi cose. Quindi non credo che ci sia l'intenzione di di esonerare insieme. Allora Vincenzo sembrava un Pescara dalle prime giornate ambizioso che potesse raggiungere i risultati. Adesso cosa rimane se escludiamo i playoff che obiettivamente non sono diciamo in pericolo, comunque non dovrebbe essere in pericolo? I playoff ci arrivano dieci squadre. L'unico obiettivo per il Pescara può essere la promozione in un campionato di serie C. Posizionarsi bene nei playoff è sicuramente, può essere sicuramente un grosso vantaggio per la parte finale, però entri in un altro campionato e con tantissime squadre, a me non piace molto questa formula delle dieci squadre che vanno ai playoff. Se arrivi decimo arrivare ai playoff mi sembra un po' una forzatura. C'è una differenza tra la seconda e la terza di talmente tanti punti, poi magari succede che per una partita tu elimini una squadra che ha fatto molti più punti di te nel campionato, quindi non lo trovo neanche particolarmente giusto. Per tornare un pochino al discorso di prima, può essere pure che hanno fatto come nel volley o nel basket, hanno chiesto un time, nel senso che hanno visto, sai quando vedi la squadra che fa un po' fatica, nella pallavolo fermi e ti prendi il tuo tempo per ragionare. Hanno avuto la possibilità di fare questo grazie al fatto che c'erano le convocazioni nazionali, quindi secondo me hanno colto l'occasione per fermarsi un attimo e magari fare quel percorso inverso dell'altra volta e l'altra volta fermandosi hanno avuto la difficoltà può essere che questa volta si possano ricompattare e ricominciare. Però è chiaro, questa squadra secondo me non è stata costruita per vincere il campionato, anche se la fidi a Zena, perché è ovvio che se tu parti per vincere il campionato il capocannoniere dell'anno prima te lo tieni, perché un giocatore che ti fa 20 gol al campionato se vuoi vincere lo tieni. Per cui sei puntato a fare un campionato con dei giovani, con dei ragazzi che magari non hanno costi molto alti e quindi cercare di fare un buon campionato controllando i costi, perché alla Serie C è un problema. Allora, andiamo dalla parte dei tifosi, andiamo al club quelli del Delfino. William, intanto diamo la notizia e quale interpretazione che c'è stata proprio oggi da parte della Lega, sul sito della Lega, da parte del giudice sportivo, la partita in cui il Pescara non vedrà di poter utilizzare la propria curva è quella con l'Olbia e non quella con il Cesena. C'è stato il chiarimento perché c'era il dubbio di quale fosse. Il regolamento che dice che la squalifica del campo o del diparte scatta dopo 15 giorni in pratica, perché in questo caso per la partita del Cesena tu potresti aver già venduto i biglietti e crei un fatto organizzativo notevole. Di solito si usa che questo tipo di squalifiche entrano 15 giorni dopo, nella partita successiva alla prima che giochi. Perfetto. Allora, William, qual è l'opinione di un club come il tuo, ma in generale sicuramente li potrai rappresentare un po' tutti i tifosi dopo queste ultime non bellissime figure del Pescara. Guarda, che dirti. Io, come ti dico sempre, ogni volta più o meno cerco di parlare per me, ecco. Sono da umile tifoso per me. Poi peraltro quest'anno ho visto poche partite per varie vicissitudini, le ho seguite in televisione, però ecco, dallo stadio qualcuna l'ho saltata. Comunque, no, che dirti, sento in giro molto, molta delusione, molto scoramento e anche dopo l'ultima partita in casa ho visto tifosi che hanno insultato i giocatori come se non si fossero impegnati, andate a lavorare, insulti di questo tipo. Ma onestamente io, come dicevate anche voi in studio, è una banda di ragazzini e più di questo non è che gli puoi chiedere. Ci sono due, tre elementi che possono fare la differenza, come può essere un merola, che purtroppo adesso è un po' in ombra, come può essere un brosco, ma pochi sono gli elementi così. Quindi, giustamente, cosa puoi chiedere più di questo? Io vedo che loro si impegnano, giocano, fanno quello che possono e purtroppo hanno dei limiti evidenti. È un limite come quello che dicevate anche voi, se tu vuoi vincere il campionato non vendi il capocannoniere tuo della squadra l'anno scorso. Soprattutto perché io ricordo le parole che disse De Ligarri in un'altra trasmissione, disse che quest'anno stiamo programmando, non è detto che vinceremo il campionato, disse l'anno scorso, non è detto che vinceremo il campionato, stiamo facendo la squadra per vincerlo l'anno prossimo, mettendo due o tre puntelli e dopo l'anno prossimo avremo l'obbligo di vincere il campionato. Quindi proprio hanno sconfessato totalmente quello che De Ligarri aveva detto e questa cosa mi lascia un po' l'amaro in bocca, soprattutto perché quest'anno veramente sarebbe bastato poco, perché le occasioni le abbiamo avute, il Pescara ha avuto tante occasioni, ha sempre giocato, almeno all'inizio finché non si è inceppato, però non c'è mai stato quello che finalizzava e notavo con degli amici che se non sbaglio questa, l'ultima, è stato il terzo under di fila, che per una squadra di Zeeman è clamorosa come cosa, terzo quarto di fila come risultato under, è veramente qualcosa clamoroso, non so a memoria quante volte fosse successa una serie così di risultati grigi per le squadre del Boemo. Quindi ti dico, da una parte mi sento di dire ai tifosi che contestano la squadra, che comunque questo possono dare i giocatori, questo possono dare i ragazzi in questo momento, soprattutto perché quando tu crei, crei e poi non segni, poi si arriva come la situazione in Serie A con Oddo, che non avevamo la punta, la squadra creava, creava, poi dopo la diecima giornata si è sciolta, perché non segnava e quindi è venuto meno anche un po' di sicurezza. Anche lì la punta era andata via. Esatto, esatto, e Repetto lo sa bene perché... Non c'era insomma quell'anno. In quel caso... Ah no, l'anno prima. Io c'ero l'anno del campionato, ma l'anno di Seriano... Eh no, dico, l'anno prima tu l'hai preso la padula, se non ricordo male. Sì, 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 stavo dicendo, anche lì la punta era andata via. Purtroppo... Esatto. Mi tocca sempre citare Nerone, ma Nerone purtroppo l'ha detta alla prima di campionato e si sta verificando proprio quello, perché mi sembra un campionato molto più apportabile di quello dell'anno scorso. Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Credo, l'impressione che ho avuto è che il livello delle squadre sia inferiore, quindi... Tra l'altro c'è da dire che ci siamo lamentati un po' tutti nelle ultime partite dell'assenza un po' della società, che comunque la società e il direttore sportivo non erano intervenuti nelle interviste, eccetera. Anche per giustificare questo periodo non bellissimo. Abbiamo ritrovato degli carri negli spogliatoi nella Mixed Zone, proprio dopo la partita con i Rimini, anche se aveva fretta, però ha detto qualcosa, ha detto il momento è quello che è e naturalmente dobbiamo cercare di lavorare, lavorare, lavorare. Il Presidente non si è visto e non si vede da un po' di tempo. Questo che segnale è, Walter? È positivo o negativo? Potrebbe perfino essere positivo, perché Sebastiani comunque è un recettore di sentimenti esasperati a Pescara, per cui defilarsi un po' potrebbe aiutare a tenere l'ambiente un po' più tranquillo. Certo è che se poi tu il giorno che vinci stai lì ad accendere i microfoni e il giorno che perdi stacchi la luce per non essere visto, adesso insomma, Daniele mi capisci, e alla fine non funziona più, non funziona più il meccanismo. Dell'Icarri del resto è stato più volte citato come una sorta di architetto di questa formazione, indubbiamente operatore di mercato abbastanza autonomo nel senso di libertà di azione, ovviamente col budget che c'era. È ovvio che in qualche modo si senta perlomeno corresponsabile della gestione tecnica. Dopodiché sappiamo che arriverà un momento in cui nel bene o nel male tornerà il responsabile unico di tutto e ci dirà la sua e sarà tutto sommato l'unica che conta. Io la vedo così. Non la vedo in negativo il fatto di Sebastiani un po' defilato. Non vedo bene il Sebastiani che decide che parla con uno piuttosto che con l'altro, che si cerca gli ambasciatori. Se parli devi parlare con tutti, perché soprattutto devi parlare a tutto il tuo pubblico. Quello che ti ama e quello che non ti ama, altrimenti non funziona. Dovresti avere la capacità di fare da scudo al tuo settore tecnico fino, lo dico sempre, l'ho imparato da personaggi sportivi del passato. La società deve fare da scudo al tecnico o comunque alla struttura tecnica fino a un minuto dopo che li ha cambiati, nel bene o nel male. Quello che non ha fatto l'anno scorso con Colombo. Esatto, esatto, esatto. E il ragionamento è esattamente questo. Io in questo vedo qualche volta Sebastiani contraddittorio. Se tiene un profilo basso, secondo me non è sbagliato di per sé. Comunque, insomma, la situazione è abbastanza... Certo che se ci stava un altro allenatore invece che Colombo stavamo qua a contare le ore per l'esonero. Invece che Zeman stavamo a contare le ore. Il Pescara è la squadra che ha il peggior ruolino di marcia delle ultime sei o sette settimane di campionato. Di tutte le prime, escluso le ultime due o tre. Il peggior ruolino. Ha perso punti con tutte. con la Reganatese, con il Cesena, con la Lucchese che pure ha battuto. Quindi la crisi tecnica è abbastanza seria. Allora, Giorgio, ecco, questa situazione come la vedi? Anche questo depilarsi del Presidente o di cercare un solo ambasciatore magari il suo pensiero? Ma io penso come l'ho sempre pensato. Penso che Sebastiani o un altro Presidente qualsiasi se parla tre volte all'anno va benissimo. Fa un'intervista a tre televisioni o tre giornali diversi in un anno e il direttore sportivo entra quando deve entrare, se ha voglia di parlare. Nel caso di Delicarri è venuto in un momento delicato perché avevi parigiato in casa e venivi da una serie di partite non buone. Ha fatto quello che doveva fare. Rimango sempre convinto che abbia allestito una buona rosa per il tipo di budget, il tipo di lavoro che gli è stato chiesto di fare. Quindi io sono ancora convinto che abbia pescato buoni giocatori. Credo che l'intervista tecnica di Sebastiani dopo le partite sia una cosa inutile perché ha tante competenze in tante cose ma non è sicuramente tecnicamente competente. Tutto l'altro. Io la vedo così. William voleva aggiungere qualcosa? No, la penso esattamente allo stesso modo di Giorgio e lo dico da anni. Io ho sempre detto che se Sebastiani non parlasse mai non sarebbe così odiato. Potrebbe continuare a fare tutte le cose che fa ma se non parlasse mai non sarebbe odiato e anzi forse sarebbe anche amato da qualcuno. C'ha ragione Giorgio. Adesso mi dispiace di dire questa cosa. Molti dicono che Sebastiani è uomo di calcio. Non lo so fino a che punto. Lascio un punto di domanda. Ho delle remore. Allora, è uomo di calcio Vincenzo Sebastiani? È uomo di calcio. Fa il presidente di una scuola di calcio da tanti anni quindi sicuramente ha avuto modo di capire tante cose, di gestire tante cose. Poi dipende dallo spazio che ti vuoi ritagliare. Hai l'affronto di altri presidenti che conosci? Hai collaborato con tanti presidenti? Ce ne sono che si presentano in maniera ancora più evidente e con più presenza sicuramente perché poi dopo chi fa quel lavoro lo fa anche perché evidentemente si vuole partecipare. Non è una persona... poi dipende dal carattere delle persone. Poi ritornando al discorso tecnico, io sono d'accordo con Giorgio. Anche per me il lavoro fatto sui giovani è un buon lavoro. Cioè c'è stato uno studio sotto. Il budget era... secondo me il budget era quello e sono stati scelti dei giocatori funzionali a quello. Per cui se li vai a analizzare, sono tutti ragazzi che hanno delle buone qualità anche con una buona prospettiva, secondo me. Siete d'accordo che manca in questa squadra la ciliegina che poteva essere Descano? L'ho detto prima, l'ho detto prima. Poi è chiaro che sia Tommasini che Cuppone magari ci si aspetta qualche cosa di più in termini di gol. In questo momento non sono arrivati, sono due buoni giocatori. Tommasini l'anno scorso ha fatto anche abbastanza bene a Taranto. La squadra ha fatto 20 gol in un anno, 8 l'ha fatti lui. Sì, sì, infatti, però fino adesso hanno fatto fatica e poi giocare nel Pescara per puntare a vincere non è come giocare nelle altre squadre tipo Pontedera o squadre di questo tipo qui. Secondo me questa non è una squadra pensata per vincere, insomma, dai. la metti in mano Zeman ti può fare un miracolo come è successo magari in passato. Però mi sembrava quella una squadra con una struttura completamente diversa, insomma. Parliamoci chiaro. Contrariamente a quello che ha detto Prodelicarri l'anno scorso. Dice, quest'anno, l'anno prossimo puntelleremo la squadra per vincere il campionato, avremo l'obbligo di farlo. E la squadra è stata diventata totalmente. Evidentemente lui in quel momento lì pensava di poter portare avanti quel progetto e poi magari non ci sono stati numeri per farlo perché evidentemente hanno cambiato strategia. O aveva magari sovrastimato i suoi poteri, ecco, diciamo. È facile. Può essere. Può essere. Allora, ora abbiamo la pubblicità, vi ricordo il numero per i vostri messaggi 368-8011-328 Pubblicità. 21 e 40 minuti. Torniamo in diretta dagli studi di Super J per questa puntata di A Tutto Campo. Allora, vediamo se ci sono messaggi da parte di chi è a casa, chi ci segue, se ci sono commenti, considerazioni o domande ai nostri ospiti. Prego la regia di inviare questi messaggi. Ecco il primo. hanno venduto l'Escano per 350.000 euro per tre attaccanti che in tre, venti gol tutti assieme non li fanno. Sebastiani non ci ha capito nulla. torna al discorso che facevamo prima di l'Escano, un discorso che già altre volte è uscito fuori. Sì, ma la squadra non segna riesce, la lingua batte dove il dente dove va. È ovvio. Vediamo ancora, per vincere i campionati ci vogliono almeno cinque mora in campo. Con i ragazzi non si va da nessuna parte. Non sappiamo chi l'ha scritto, potrei pensare a Walter, che sicuramente è uno di quelli che quest'anno ha appoggiato di più mora e non ha capito la sua non presenza in campo, giusto? Io non è che appoggiavo mora. Io, per quello che vedevo, dal basso della mia scarsa competenza, dicevo ma se questi producono questo, mora perché sta in panchina? E come l'anno scorso, le famose sei settimane... Ti sei risposto a questa domanda, hai trovato una risposta? No, la troveremo forse fra uno o due giornate, perché l'altro giorno, con mora in campo, io ho visto due o tre cosettine, poche per poter dire, trarre conclusioni, però ho visto il terzino un po' meglio protetto quando si sganciava, ho visto qualche movimento, meno rischi, qualche spazio in meno lasciato a un Rimini che onestamente non mi sembrava il miglior Manchester City, insomma. Adesso voglio vedere il seguito, perché dopo Di Carrara ha detto che era soddisfatto, praticamente dice il risultato non è buono, ma la partita è stata buona e ha cambiato tutta la squadra. Adesso dice che ci è mancato solo il gol, alla prossima uno si aspetta che aggiusta lì davanti, secondo me cambierà tutto dietro, cioè non è che cambierà, secondo me potrebbe anche cambiare tutto dietro e lasciarli davanti quelli che non fanno gol. Però ecco, Mora, a me basterebbe uno se tutto intorno fosse coerente. Tu hai bisogno di un metronomo, non hai più Palmiero, non hai più Craia, non hai più quelli dell'anno scorso, si è disquizzato, se capito, si fida fino a un certo punto. Allora, cioè Mora, io non ho capito, per esempio a un certo punto della partita mette Aloy in un ruolo che non perde occasione per dire che non è il suo. Allora, perché non Mora in quel ruolo, visto che ci devi adattare uno? Ma è una domanda, non è una, come dire, un'affermazione perentoria. Li hai provati tutti? Provaci pure quello. Non lo so perché no. Vedremo in altre occasioni cosa dirà Zeman, vediamo altri messaggi, un altro paio, poi ci fermiamo. Portate De Gidio a Pescara e vedete quanti gol fa. Menola non vede proprio la porta, tira sempre al cavolo e perde palla sistematicamente dal suo marcatore. De Gidio è bravo. De Gidio è bravo, questo è sicuro. E se è bravo è fuori di dubbio. A Teramo è fuori categoria. Ancora un altro messaggio. Buonasera, senza programmazione non si vincono campionati. A novembre già si è capito che questa squadra non è all'altezza, ma la colpa non è dei ragazzi e del mister. Pesce, Puzza, la coccia. Sebastiani, Vattene, Peppe 81. Questa non è nuova. Non è nuova, è qualcuno che scrive così. Insomma, il discorso della programmazione, qui abbiamo due, Giorgio e Vincenzo, che di programmazione ne sanno. Ma guarda, il discorso che faceva prima William è quello normale. Se l'anno scorso il direttore sportivo si è espresso così, dicendo che era un'annata in cui non era obbligatorio vincere, ma si metterono le basi per questo campionato, no? Probabilmente dopo qualche cosa è scoppiato in mano, perché se tu arrivi, se io non so le cifre, perché sono quelle dichiarate, io le ho lette sul giornale, ma se Raffiano fai andare via per 650 mila, dopo che De Licarri, mi sembra che avesse dichiarato che era un giocatore da almeno 4-5 milioni, mi sembra di aver letto almeno così, e perdi le scanope 3-50, allora vuol dire che qualche cosina si è inceppata, non dico nella programmazione, nell'intento che c'era diciamo l'estate del 2022, da quello che diceva William prima. Io penso che siamo passati anche noi dopo lo spareggio di Bologna, perso e immeritato, cioè perso, col Bologna che è salita abbiamo pareggiato, ma meritavamo sicuramente di salire noi e abbiamo venduto quello che era possibile, tutto quello che c'era di possibile e poi siamo stati fortunati nel trovare, avevamo già dei giocatori che la Padula avevamo già parlato molto presto, a febbraio, Donnarumma era nostro anche se era a Teramo, poi è successa anche quella cosa purtroppo a Teramo che aveva vinto il campionato e gli è stata tolta la vittoria, però il secondo di Oddo ci ha fatto prendere Madragola che aveva 17-18 anni, io poi leggo anche ora, continua a dirlo perché un po' mi fa incazzare questa cosa qua, leggo sempre che c'è un'età molto bassa, ma quel campionato lì l'età media era non superiore a 22,8 o 23, compreso Campagnaro, voglio dire, che tirava sulla media, perché erano tutti ragazzi giovani, forti, giovani, siamo stati fortunati, il Presidente, gli dicevo prima, non deve fare interviste tecnicamente, che poi le fa sempre con la stessa persona, insomma alla fine io quando le vedo vedo che parla sempre con lo stesso giornalista, ma ha avuto anche delle intuizioni, io non gliele nego perché Caprari l'ha voluto far rimanere lui a Pescara, ha fatto 13 gol, poi quell'anno lì, ha portato Bellanova, ha portato Zappa, mi ricordo, insomma, ha fatto dei movimenti interessanti, ma non vuol dire che poi devi andare a parlare di calcio sempre, ma credo che la direzione sportiva di una squadra di calcio la debba fare il direttore sportivo, se no, perché cazzo si chiama direttore sportivo? Se è il direttore sportivo, la direzione sportiva è la sua, voglio dire, è una cosa talmente logica, poi ci sono i problemi economici, magari di dover rientrare in certi parametri entro il 30 di giugno, e questi è logico che sono impegni da parte del direttore sportivo su input della società, di fare mercato in uscita, perché devi rientrare di determinate cifre, ed è legittimo che una società lo faccia, ci mancherebbe, è una cosa normale. Ma adesso volevo chiedere una cosa, non c'è il rischio che magari il Pescara arrivi a gennaio, se la squadra non continuerà a soddisfare, magari cambi moltissimo, e poi magari si trovi in una situazione con dei cambi e dover cambiare anche l'allenatore, questo sarebbe devastante, è successo già altre volte, no? Io credo che l'idea sia quella di continuare su questo tipo di indirizzo che c'è stato quest'estate, perché la squadra, come diceva pure Vincenzo prima, i ragazzi se li prendi uno per uno sono quasi tutti ragazzi validi, nei loro ruoli, sono bravi, si vede che possono fare qualcosa anche in futuro, voglio dire, quindi la scelta è stata fatta, può darsi che giri anche la ruota, magari batti il Cesena, vinci il recupero, incominci a vincere, come è successo qualche anno fa, sempre con Zeman, voglio dire, dopo le partite con l'Arezzo e altre due o tre, ripartì con il 6-6 a 0 a Padova e via dicendo, quindi può succedere qualsiasi cosa, lo stesso anno con Oddo, noi a un certo punto, dopo aver giocato la più bella partita del campionato e averla persa a Cagliari, abbiamo fatto nove partite, tre punti, dopo la squadra ha rincominciato a vincere, quindi ci sono dei momenti, come ha avuto il Pescara oggi, può darsi che magari ce l'abbia il Cesena tra un po' di tempo. Il problema all'inizio con Cocco, no? Sì, si. Si pensava ad aver risolto il problema del bomber, guarda, vi raccontano un anello, fino ad Ascoli, la sesso, io ho fatto il contratto a Oddo, a Oddo, sì, a Cocco, perché volevo prendere il centravanti del Bologna, vince, aiutami, no, quello del Bologna di allora, vabbè, sono i miei famosi, vabbè, comunque, e mi disse, do la risposta alle dieci e mezza, alle undici finiva il mercato, no? È capitato che alle sette, le otto del pomeriggio, così, verso sera, c'è stato un po' di problema tra i nuovi dirigenti del Vicenza e quelli vecchi, e mi sono intrufolato là dentro, ho preso Cocco, che è stato il capo canoniere dell'anno prima, no? E quindi andavo a cena o alle riunioni con il contratto di Cocco sotto il sedere, cioè, mi ci sedevo solo perché il Vicenza mi aveva chiesto di non depositarlo prima delle undici, ma no, quattro di giornate, perché se veniva fuori la voce subito a Vicenza, gli avrebbero fatto un casino i tifosi, Perché anche Vicenza è la città che fa 7-8 mila abbonati anche in Cino, per cui noi Cocco sembrava tutti contenti, avevamo preso il giocatore 600 mila euro di acquisto e quindi sembrava un po'. Poi è venuto fuori la padura, è venuto fuori Caprari, che come dicevo prima l'aveva voluto tenere il presidente, Odo si è inventato questo doppio trequartista Benali-Caprari e Cocco è sparito. Sappiamo quello che è accaduto. E Cocco è sparito. Allora, Vincenzo, a questo punto si può dire, tu sei ottimista per il proseguo, pensi che Pescara si rifarà, riprenderà comunque la marcia lì, adesso poi dal risultato finale. Io credo che non cambieranno gli obiettivi del Pescara, cioè c'è questo campionato di 6-10-C al di là del primo posto, Però il momento è così difficile che il Pescara sta perdendo punti, comunque... Sì, però se l'obiettivo come io penso sono quelli di piazzarsi i play-off, il Pescara è pienamente in corsa, la classifica è la cosa migliore che c'è in questo momento del Pescara. ha passato un periodo difficile però ancora lì c'è da venire fuori da questa situazione e da arrivare a gennaio. Poi se a gennaio ti accorgi che il tuo problema è magari finalizzare un po' di più, cercare di fare qualche gol, dovrai intervenire sul mercato con un giocatore che può soddisfare questa esigenza. Io credo che non ci sia assolutamente nessun motivo per mollare o per sentirsi fuori dai giochi perché non è che il Pescara partita è per arrivare prima, è partito per fare secondo me un buon campionato, piazzarsi bene, valorizzare i giovani, fare qualche plusvalenza a fine campionato, fare minutaggio perché con questi giovani sicuramente fa un buonissimo minutaggio e i conti tornano e poi la speranza è quella di essere anche competitivi per piazzarsi bene nel campionato. Bene, allora andiamo a vedere cosa è successo in questa ultima giornata di campionato quindi le partite più interessanti, le tre partite più interessanti e poi i gol scelti da Alessia Spolverini. Buonasera Alessia. Buonasera a tutti, buonasera. Allora possiamo far partire la sigla? Vai! Vedevo una bella ragazza in casa, ma non... Anche questa settimana come la scorsa mi sono concentrata principalmente su quelle squadre che si trovano proprio ad incorniciare il pescata nella classifica e quindi sono partita dall'esaminare Recanatese Olbia finita 4-1 è successo tutto praticamente nel secondo tempo tre gol in 12 minuti compreso quello di Destena dei Sardi ad aggiungersi a questo il quarto gol dopo circa 60 secondi e poi è arrivato appunto la conclusione definitiva con il 4-1 quindi il quinto gol della partita io devo dire che il capitano Sbafo è un ottimo conduttore della propria squadra del proprio gruppo e riesce a gestire ogni azione con lucidità con anche idee è veramente un fantasista e devo dire ha una grande tecnica quindi gran parte del merito di questa vittoria come delle precedenti è anche grazie a lui e soprattutto grazie a lui poi passiamo ad Arezzo Pineto finita per 1-2 in realtà ci sono state tante chance per gli Amaranto soprattutto nel primo tempo probabilmente hanno gestito in realtà loro la partita nella prima frazione tra l'altro si erano dannati anche in calcio di rigore però poi è stato parato a Guccione Tonti ha detto no anche sulla ribattuta quindi diciamo che è stato molto bravo soprattutto il portiere Shakir porta il Pineto in vantaggio poi risponde Gucci dopo due minuti Volpicelli la chiude passerei poi all'ultima partita Spal Pontedera finita per 0-1 ancora una volta la Spal perde e perde in casa nonostante comunque Maestro avesse tentato diverse conclusioni in generale ha condotto la partita tra le vere e proprie occasioni poche direi del Pontedera c'è infatti quella di Benedetti che praticamente sbaglia un gol fatto poi il vantaggio arriva con Catanese su ribattuta che sbatte sulla traversa e rimbalza proprio sulla linea quindi in realtà infatti non stavano neanche festeggiando questo gol perché effettivamente ecco non si erano neanche accorti che fosse che fosse stato appunto gol per quanto riguarda appunto la Spala quindi un po' come dicevamo continua a essere un po' la delusione forse di questo campionato quella che non ci aspettavamo allora io passerei ai gol se siete d'accordo anche questa settimana ne ho scelti cinque ci sono dei protagonisti che ho già menzionato altre volte la quinta posizione io vorrei mettere il gol di Milani sull'ottimo tocco comunque di a cornero di destro è stato un gol diciamo intuitivo abbastanza veloce devo dire che insomma mi è piaciuto proprio perché forse era inaspettato che il portiere magari ci sarebbe anche potuto arrivare ma non se l'aspettava quarta posizione il gol di Vasquez di testa secondo me questo è un gol veramente da dieci e l'assist di cancellieri altrettanto perché è veramente precisissimo al terzo posto saliamo io ho di nuovo citato Manolo Adamo del Cesena è stato protagonista per il primo gol perché effettivamente è stato il suo ma lo è stato ancora di più protagonista soprattutto degli altri due immediatamente successivi prima un assist da maestro con un cross e poi dopo successivamente ha aiutato anche il lancio di Silvestri e quindi in generale l'uomo della partita credo sia stato lui al secondo posto un altro nostro conoscenza ho di nuovo messo Emilio Volpicelli del Pineto vince il contrasto con Gucci schizza in contropiede riesce a smarcarsi e con una bella parabola va dritta in rete io devo dire che secondo me il suo impatto a livello della squadra ha dato molto insomma riesce a dare molto al primo posto metto chi ho già citato prima Sbafo della Recanatese sia sul primo gol con un ottimo assist di Lipari che si libra passando la palla proprio alle spalle del difensore avversario e questo capitano ha cerchiato che comunque riesce a stoppare andare rete e poi la magica rovesciata del 3 a 1 che penso che sarà una di quelle che poi ci riporteremo in realtà non tanto per la precisione ma semplicemente perché riesce sempre a stupire grazie adesso rimani con noi ecco vediamo questo allora io direi a questo punto di parlare anche del Pineto perché il Pineto sta sicuramente facendo molto bene e domani ha una partita sicuramente importante e soprattutto c'è un qualcosa di particolare perché torna a giocare sul proprio campo sono stati fatti dei lavori allora vediamo il servizio che ha realizzato Fabrizia Cardinale il ritorno del Pineto al Mariani Pavone appuntamento per domani ore 16 e 15 con la squadra di Amaolo che affronterà il Perugia del rinnovato impianto sportivo match difficile per i biancazzurri gli Umbri a quota 24 punti dietro alle due capoliste Torres e Cesena puntano i piani alti della classifica nel pomeriggio di ieri la squadra si è allenata nella struttura con il tecnico di Porto San Giorgio che sta valutando le condizioni dei suoi per provare a scardinare la seconda miglior difesa del girone un giorno importante finalmente torniamo a Mariani Pavone che abbiamo visto ieri è diventato un gioiellino quindi avere una struttura di quel tipo nel territorio sicuramente è tanta roba per di più inauguriamo affrontando una squadra plassanata come il Perugia una squadra importante costruita per fare la Serie B poi non è stata ripescata ma ha mantenuto lo stesso organico quindi mi aspetto una partita difficile che dobbiamo interpretare al meglio le nostre possibilità come abbiamo provato sia nei giorni scorsi anche in questa settimana abbiamo due moduli da interpretare magari uno un po' più offensivo diciamo sulla carta perché magari è un attaccante in più ma al prospetto dei moduli che metti in campo dipende sempre l'atteggiamento potrebbe essere un 3-5-2 un 4-3-1-2 ma sempre l'atteggiamento della squadra una squadra propositiva che prova a giocare prova a creare le occasioni da golle come ho detto prima essere corta compatta e aggressiva quando alla balla squadra avversaria a prescindere dal modulo che metteremo in campo sanno loro che noi cerchiamo di fare prestazioni importanti per dare soddisfazione sia a loro sia alla società sia a tutto il territorio perché diciamo il Pinedo in Lega Pro è qualcosa di importante per tutta la provincia bene le parole di Amaolo allora che dire del Pinedo che il Pinedo potrebbe fare un piccolo favore al Pescara ne ha fermate tante potrebbe dare potrebbe rallentare anche il Perugia sulla carta nettamente favorito ma il Perugia ma il Pinedo era sfavorito in molte altre circostanze sta facendo un signor campionato mi dispiace domani non poter vedere questo esordio casalingo perché credo che sia un evento molto ma molto suggestivo per tutto l'ambiente dopodiché loro bene o male come dire giocano a non prenderle però hanno qualcuno che le dà il Volpicelle di turno avrebbe fatto molto molto comodo al Pescara certo all'inizio il campionato nessuno poteva pensare che sarebbero ma molti anni sono almeno due o tre anni che è una squadra di Zeman che non fa gol però ecco un uomo un uomo capace comunque di metterla in porta in qualche modo con una piccola deviazione decisiva perché non aveva fatto un pallonetto aveva tirato in porta è venuto un pallonetto micidiale è la terza o la quarta partita di fila adesso non è il fatto di quell'uomo ma è l'uomo che manca al Pescara quest'anno cioè quello che col tiro sporco ti risolve la partita perché ci prova perché ci tira qua è venuto fuori un pallonetto che se l'avesse calibrato ne parleremmo per qualche mese però ecco è quel tipo di uomo che il Pescara non ha quello che in qualche modo la mette in porta da qui che stanno Volpicelli adesso l'ha preso il Pinedo perché sono stati bravi a Pinedo a prendere hanno fatto una buona squadra per la categoria cioè hanno Marcello Di Giuseppe più che decorosa come squadra è bravo per queste cose e Volpicelli è un giocatore che comunque negli ultimi anni ha sempre fatto bene e ha fatto anche parecchi gol magari non è proprio Zemaniano nella sua maniera di giocatore nessuno si aspetta che faccia 20 gol a fine stagione o che risulti chissà che però ecco è il tipo di giocatore che in una squadra ci sta che è nel Pescara ma cioè quello che ti riporta come mai non ci ha pensato il Pescara ti riporta l'azione ti porta ti porta di là è capace di dire di diciamo di sgomitare e di resistere alle sgomitate e qua abbiamo molti esteti purtroppo in questo periodo di concreti non ne vediamo allora William forse voleva intervenire stavi chiedendo la parola sì sì dicevo come mai non ci ha pensato il Pescara infatti dicevo Volpicelli sono almeno tre anni che fa campionati importanti non dico il Pescara ma comunque una big forse a Pescara mi viene da pensare che magari il procuratore non è amico qui di qualcuno e quindi per quello non viene preso se no è strano uno come Volpicelli io sono anni che da quando stiamo in Serie C ogni anno dico cavolo averlo noi uno come Volpicelli e anche quest'anno lo sto dicendo questo vuoi dire che sostanzialmente il Pescara si affida solo ad alcuni procuratori rispetto a non credo sulla carta Tommazzini sembrava all'altezza del ruolo non è che sono due ruoli diversi però Volpicelli non è quel ruolo sì sì no sono d'accordo sono d'accordo ma siccome si parlava di uno che ti risolve le situazioni in qualche modo quasi pensava di aver messo ciascuno al posto suo e Tommazzini lì davanti con Vergani sul quale io ero abbastanza scettico ma che a questo punto meriterebbe pur di avere qualche chance in più però ecco io non pretendevo di dire che Volpicelli poteva essere la prima scelta del Pescara è quel tipo di giocatore che però il Pescara non ha questo è un dato di fatto il Pescara diciamo che quelle caratteristiche forse che il tiro da fuori potrebbe averle a Cornero però a Cornero è acerbo per tantissime altre cose pur essendo un ottimo calciatore secondo me quindi diciamo Dolpicelli univa quel tiro sporco da fuori che dicevi tu prima la capacità di risolvere le partite con una giocata all'esperienza che comunque è un giocatore che sono ormai diversi anni che fa la differenza è un mix di cui in questo momento il Pescara sente la mancanza tra dieci settimane dopo che avrà vinto quattro partite di fila 4 a 1 non ci porremo più il problema ma finché non succede quello ci tocca rimbiaggere anche il buon Volpicelli comunque Pierluigi ha tentato di parlare del Pineto ma parlate solo del Pescara il raffronto è sempre come il Pineto comunque è una grande realtà vedo che abbiamo detto bene Vincenzo hanno costruito una buona squadra secondo quelle che erano le prerogative di calcio che volevano praticare sia la società che l'allenatore però il campionato scorso c'è chi era un buon attaccante ha una fisicità impressionante anche lato diciamo che hanno lavorato molto bene indubbiamente quindi i risultati di Giuseppe non hanno fatto bene Marcello l'ha già fatta Latina l'ha fatta a Teramo quindi voglio dire non è una novità è competente è bravo hanno costruito bene una squadra che fa un calcio diverso da quello che pensava di dover fare il Pescara per dire e quindi lo sa fare questo tipo di calcio lo sa fare bene e Brocco sicuramente non a caso è la quarta miglior difesa soddisfatto esatto Brocco può essere soddisfatto perché è entrato nel calcio da molto tempo però adesso sta emergendo è un ottimo presidente io comunque alpinetto toglierei più ruberei più evangelisti che qualche altro evangelisti mi piace molto anche a me anche Brocco non è male anche esatto magari magari allora pubblicità poi torniamo di nuovo in diretta torniamo in diretta quando sono le 22 e 13 minuti per questa trasmissione di A Tutto Campo allora torniamo da Alessia Spolverini come vedo Alessia ah ma abbiamo un messaggio poi andiamo da Alessia la vispesero qua dicevano che aveva messo due pulma davanti alla porta ma Cesena ha preso quattro avrà avuto le porte aperte è perché i pulman erano rimasti appescati oppure chi ha visto i pulma è un visionario non lo so può capitare di tutto e andiamo da da Alessia c'è Alessia c'è 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 ecco là allora Alessia tu questo signore lo conosci bene no Vincenzo Vinguzzi perché è molto legato alle squadre della tua terra insomma Viterbo al ex presidente eccetera insomma e allora parliamo un attimo di questa crisi del Pescara abbiamo non abbiamo ascoltato la tua opinione su su questo momento difficile allora io in realtà penso che il Pescara sia una di quelle squadre che in questo girone ci stanno dimostrando che non si può mai abbassare la guardia nel senso che stiamo vedendo parecchie sorprese siamo stati delusi da diverse squadre e probabilmente non ce le aspettavamo perché le cose vanno ogni partita più o meno diversamente nel senso non si può mai abbassare non si possono mai abbassare le difese perché mi sembra diciamo un un agglomerato di squadre che comunque magari vinci la partita prima poi quella dopo la pareggi poi la rivinci poi due sconfitte cioè è un campionato da una parte interessante dall'altra ovviamente visto dall'ottica di chi lo vive può complicare un po' la situazione questa cosa secondo me il Pescara è un po' vittima chiamiamo così perché comunque il suo buon percorso l'ha fatto e sta dimostrando comunque di non essere ecco proprio una squadra a basso livello anzi tutt'altro però è un po' vittima di questo meccanismo che comunque è innegabile stiamo vedendo una classifica che viene continuamente rimescolata soprattutto nelle ultime zone le ultime squadre dei playoff tutte le centrali e poi anche nella zona play out è un continuo movimento quindi non si può mai stare tranquilli bene allora a questo punto quante partite sono state giocate fino ad ora 13 a questo punto direi di esaminare una cosa abbiamo detto prima che il Pescara ha chiesto il rinvio della prossima partita quella che avrebbe visto a Ponte d'Era giocare contro la squadra locale e che andrà il 5 dicembre questo il mancato gioco di questa partita il mancato no entrare in campo può portare al Pescara un vantaggio o uno svantaggio dal punto di vista per i giocatori dal fatto che si fermano oppure li può aiutare a riprendere forza e consapevolezza in se stessi Walter io lo accennavo all'inizio per le abitudini o per la cultura di Zeeman la richiesta di questo rinvio mi è incomprensibile a meno che perciò ti dicevo voglio vedere che cosa farà a meno che non ci sia qualche ragionamento qualche discorso per cui ha bisogno di qualche giorno in più perché ho visto che il programma di lavoro sostanzialmente è quello di una pausa ordinaria un po' di lavoro fisico subito all'inizio della settimana poi la pausa poi si ricomincia siccome si ricomincia per giocare di sabato contro la prima della classifica penso che Zeeman quella settimana lì non farà particolari lavori fisici ma lavorerà probabilmente sull'organizzazione di squadra quindi aver chiesto questa settimana in più perché ti mancava Tunjov ma Tunjov voglio dire ultimamente non è che ci sia stato molto di più di quanto è assente quindi non mi pareva un'assenza giusta d'altro canto c'è che ora tu hai una partita di campionato da recuperare in un periodo nel quale c'avrai due turni di Coppa Italia ovvero c'hai il primo turno di Coppa Italia e se lo superi c'hai anche il secondo in un mese prima di arrivare alla vigilia di Natale in meno di un mese avrai quattro settimane praticamente giocherai ogni tre giorni ogni quattro giorni è un vantaggio questo per le abitudini di Zeman secondo me è un danno grave è un danno anche grave dopodiché se lui ribalta la situazione e lo fa diventare una vera ripartenza giù il cappello e ne prenderemo atto sulla carta questa scelta una scelta di Zeman Giorgio o della società ma questo è chiaro che viene fatto col consenso del tecnico ma un ultimo elemento se Zeman le vince tutte farà alla fine del girone di andata come Colombo forse un punto in più ma le deve vincere tutte e non è pace Giorgio no vabbè io l'ho detto prima da giocatore avrei preferito giocare dal punto di vista dell'entusiasmo non aver vinto in queste ultime partite e magari riuscire ad andare a Pontedera e vincere la partita mi avrebbe portato a fare la partita con il Cesena nella situazione sia ambientale che di diciamo di entusiasmo completamente diversa è chiaro tu dici vado a Pontedera magari perdo è peggio questo è fuori di tutto ma tanto voglio dire se il Cesena domenica batte la Lucchese tu affronterai il Cesena che avrà in quel momento 12 punti in più di te 11 12 12 punti in più di te sembra che ti devi giocare la partita della vita hai capito invece magari riuscivi a fare hai la partita sempre da recuperare però poi come dicevi tu infilate in quello spezzatino tremendo di tante partite in poco tempo per cui anche perché se ho letto bene hanno avuto tre giorni di vacanza i giocatori non mi sbaglio due sicuri mi sembra due o tre insomma mi sembra non propriamente il momento migliore per allentare la presa oppure come diceva Walter può darsi che abbiano caricato questi 4-3-4 giorni poi magari settimana prossima si andrà con un lavoro più leggero per arrivare ad avere la squadra sciolta e brillante per la partita con Cesena il campo ci dirà se è stata una scelta giusta o sbagliata certamente se ti ritrovi a 12 punti dal Cesena e non lo batti sempre 12 rimancano e tu devi andare a vincere a Pontedera per arrivare a meno 9 se punti a vincere il campionato se invece voi come diceva Vincenzo il programma è vero di arrivare nelle prime 3-4-5 squadre per poi fare bene i playoff allora sei perfettamente in media Vincenzo sei d'accordo di che questa partita con il Cesena è un po' uno snodo per il Pescara in un certo senso è sicuramente una partita una bella partita difficile contro la squadra quella che fino adesso dimostrata di essere la più forte per cui sarà sarà vedi il discorso dopo le soste dopo le soste più o meno lunghe c'è sempre il dubbio come esci da questa cosa avere continuità di risultati o continuità di gioco chiaramente sei un pochino più sul pezzo nel senso che sei controlli un pochino di più la situazione quando vieni da una sosta ci possono essere sempre dei dubbi poi dopo una sosta avere anche il Cesena sicuramente però come ho detto io prima potrebbe anche essere stato proprio così cioè in questo momento l'allenatore vede la squadra un pochino fuori giri non la riconosce più nelle sue magari ha perso qualche cosa avere la sosta per poterci lavorare può essere pure come ho detto prima un time out per vedere ricaricare un attimo le pile rimettersi a posto per poi affrontare il Cesena che è una partita sicuramente che ti dà tantissimi stimoli e che se la vinci potrebbe riaprire un po' di entusiasmo un pochino di una prospettiva diversa bene allora siamo proprio in conclusione andiamo da Manuel Carinci per vedere il risultato del suo lavoro questa sera la sosta la prossima volta la prossima volta allora bene questa sera mi sono riallacciato un po' le parole del caro Pierluigi ovvero di questo presidente che sembra un po' fuggiasco non lascia dichiarazioni soprattutto in un momento di forte crisi appunto perché il pescario non riesce più a vincere o comunque a fare un risultato positivo e quindi diciamo riallacciandomi a un fatto tragico o comunque storico della storia italiana ho rappresentato la costa pescara metaforicamente parlando appunto il pescara che sta sprofondando dentro al mare con con appunto Sebastiani nei panni di Schettino che sta scappando sul gommone dice Sebastiani dove vai si Sebastiani dove vai si dovrebbe dirlo in teoria Zeman o comunque qualcuno che fa parte dello staff all'interno del pescara calcio vedremo dove va dove va immagino che andrà verso qualcuno ma non va verso la parte va beh a parte gli scherzi ridiamo un pochino ci divertiamo un po' bene a questo punto saluto gli ospiti di questa serie inizierei da William Gelsumino grazie William come sempre gentilissimo ad essere presente nelle nostre trasmissioni grazie per Luigi io te lo dovevo perché è tanto tempo che mi cercavi e io non sono riuscito poi come sai recentemente mi sono sposato diciamo che c'è stato il matrimonio facciamo gli auguri naturalmente a William diciamo le cose diciamo le cose salutiamo saluto mia moglie saluto mia moglie Dalila ecco perché hai tradito il pescara beh per una volta valeva la pena valeva la pena valeva la pena grazie a William e a quelli del delfino grazie poi c'è tutto il club che lavora moltissimo grazie ad Alessia poi faremo un collegamento dalla sede che presto tornerà a trovarci qui a pescara Alessia buonasera assolutamente sì ci vediamo presto buona serata a tutti grazie un ringraziamento quindi a Manuel Carigi grazie a voi e poi agli ospiti qui in studio Vincenzo Minguzzi Giorgio Repetto e Walt Nerone un ringraziamento anche alla regia a Pietro Baldassare e Francesco Di Carlo e a voi che ci seguite come sempre con tanto affetto da casa appuntamento e a venerdì prossimo alla stessa ora alle 21 buonanotte sono seduto sopra una panchina qui fermo ad aspettare perfetto e c'è un pallone sta viaggiando su un prato e quando arriva mi farà sudare ma dimmi quando arriverai sono così teso questa palla non arriva mai chissà che faccia che farai così felice smalordito non t'ho vista mai a tutto campo arriverà e un talk show del tuo pescara qui si parlerà chissà che faccia che farai quando la vedi alla televisione rimarre senza parole e clicca se seguici a tutti